buonasera a tutti ci ritroviamo qua per il nostro terzo appuntamento sulle problematiche della vela di altura io sono roberto nada sono il direttore della del centro velico rivera vento un centro di formazione per la vela d'altura con base a genova e questa sera parleremo di meteo e routage quindi la domanda un po provocatoria che ispirerà tutta l'incontro di questa sera è ma a che ora arriviamo quindi come facciamo in base a una determinata situazione meteo a tracciare la rotta migliore che ci permette di arrivare possibilmente prima possibile ma comunque in sicurezza alla nostra destinazione quindi la serata di stasera è strettamente collegata a quello che abbiamo visto la settimana scorsa quando con maggiorina e gianfranco maggiorina e navi meteo abbiamo chiacchierato e analizzato quello che significa fare le previsioni meteorologiche per il mare quindi abbiamo parlato di meteo di bollettini i modelli eccetera questa sera invece andiamo più ci focalizziamo di più proprio sui problemi della navigazione e questa sera con noi abbiamo come ospite walter pretelli che è un giornalista un navigatore è un appassionato di meteorologia docente di corsi di meteo di routage ma di questo avremo modo di parlarne quindi walter ci accompagnerà in in questo viaggio sul mondo un po magico e a volte poco conosciuto del routage io devo presentato presento diciamo i nostri relatori il panel di questo incontro perché innanzitutto devo ringraziare paolo biancon che il responsabile del settore vela d'altura dello york club italiano e formatore world sailing perché la serata di stasera ha luogo grazie a grazie a lui visto che è lui che mi ha messo in contatto con walter non so paolo se vuoi dire qualcosa ricordati solo di togliere l'audio l'audio grazie roberto grazie a tutti buonasera a tutti sì con walter abbiamo avuto un incontro circa tre anni fa e da quel momento abbiamo iniziato un rapporto di collaborazione con walter organizziamo corsi di meteo routage allo york club italiano e direi che è stata un po un'evoluzione importante perché da prima si organizzavano solamente corsi meteo con il buon matteo aria non so se qualcuno lo conosce ma è un grande personaggio con walter abbiamo avuto questo questo progresso che ritengo sia giusto cavalcare in questo momento walter è una persona molto in gamba e stasera ci spiegherà delle cose molto molto interessanti perfetto poi chiaramente paolo visto che tu anche nelle tue navigazioni ti sei avvalso del routage di walter se puoi dei commenti sull'aspetto lato navigazione come farò anch'io ovviamente i tuoi commenti sono preziosi grazie grazie l'altra cosa che l'altra premessa che voglio fare naturalmente intanto vediamo prima condividere lo schermo vediamo se funziona tutto quanto e che questo incontro come già avevamo spiegato la settimana scorsa questo incontro di stasera sul routage fa parte di una serie di incontri dedicati alle tematiche delle vele abbiamo già parlato dell'emergenza in mare abbiamo parlato della meteo oggi parliamo del routage prevediamo forse già dalla prossima settimana quindi vi teniamo aggiornati di parlare di delle problematiche dell'energia elettrica a bordo e vogliamo anche parlare visto che c'è stato sollecitato dopo il primo incontro sulle emergenze parlare un po di più di come prevenire le avarie guasti magari analizzando alcune avarie o problemi che possono verificarsi più facilmente e analizzando come gestirli e come prevenirli e poi magari avremo altri argomenti che via via aggiungeremo a questa serie ovviamente questi incontri che avvengono su zoom per gli ospiti invitati su zoom e in diretta facebook sulla pagina riveravento e sul gruppo venisti in facebook queste sono delle chiaccherate con degli esperti con persone che hanno vissuto queste problematiche o che vivono queste problematiche dal vivo quindi protagonisti della della navigazione d'altura ma ovviamente sono degli incontri discorsivi stiamo parlando di problematiche che come vedrete anche stasera sono complesse con molte diramazioni con molti argomenti da approfondire e vi anticipo che questi incontri sono un po una un preambolo una premessa a un percorso teorico pratico che stiamo sviluppando e quindi il mio impegno è che molto presto vedrete qualcosa di più concreto che vuole proprio aiutare tutti quanti a passare dal ruolo di riportista cioè di chi esce dal porto naviga rientra in porto e se ha qualche problema si appoggia al meccanico al velaio al meteorologo eccetera per diventare invece navigatore quindi il navigatore chi è quella persona che ovviamente non è un velaio non è un meccanico non è un ingegnere navale ma se ha un problema a bordo in qualche modo lo sa identificare lo sa detectare ci sa mettere una toppa che dura quel tanto che basta per poi entrare in porto e appoggiarsi al professionista quindi il navigatore è esperto perché sa conosce le cose è competente perché le sa fare è autonomo perché sa gestire le emergenze le avarie gli imprevisti soprattutto quindi col passare del tempo entreremo più in dettaglio in questo percorso magari lascio un momento la parola anche a Gianni che forse vuole aggiungere su questo argomento e sul molto gradito coinvolgimento di velisti in facebook quindi lascia te la parola a Gianni si dicevo posso solo ripetere quello che hai detto tu in effetti questo è un programma che vede interessato anche il gruppo velisti in facebook e diciamo tutte le altre attività collegate a velisti in facebook quindi il canale youtube il sito e la pagina ritengo che tutto ciò che riguarda la navigazione la sicurezza e la possibilità di rendere più autonomi tutti quelli che vanno in barca sia una delle maggiori finalità che possa avere un gruppo di facebook dedicato alla vela quindi con molto piacere condivido sia il progetto che la sua diffusione prima di iniziare un'ultima nota tecnica allora chi è presente sull'incontro zoom se ha delle domande le può fare in tempo reale scrivendo in chat quindi vi chiedo cortesemente di non intervenire con l'audio col video per non interferire con il buon svolgimento della diretta quindi anzi gentilmente magari se potete staccare spegnere il video e l'audio e quando provrete la domanda io poi dopo vi metterò in contatto quindi potete attivare il video e l'audio e porre la domanda a Walter o al sottoscritto direttamente chi invece ci sta seguendo su facebook la diretta facebook se nella chat inserite la domanda mi farò carico io di eh rileggerla e di porla a eh di porla a uno dei relatori quindi in ogni caso eh questa presentazione come nostra abitudine è assolutamente interattiva io a questo punto lascerei la parola però a Walter che così magari ti presenti e e iniziamo a parlare di eh di di Routage allora buonasera Roberto Paolo Gianni buonasera a tutti eh niente la mia presentazione è molto breve mi piacerebbe parlare eh degli argomenti di stasera da da appassionato da velista eh a tanti altri spero tanti appassionati e velisti per condividere quelle che sono eh esperienze e e conoscenze in modo tale da incuriosire eh magari qualcuno in più per per su questa su questo argomento io sono un giornalista scrivo su vele motore collaboro con Paolo per i corsi ora insieme anche a te spero Roberto di poter fare qualcosa e quindi niente eh possiamo cominciare a parlare di questo argomento riprendendo probabilmente da dove eravamo rimasti la volta scorsa con l'interessante serata di di Navi Meteo allora magari ti chiederei un favore se eh fai vedere la rotta dalla spezia macinaggio quella slide che avevamo preparato così io provo a a spiegare un momento il il mio problema visto che ho ho un esperto come ti a disposizione vediamo se possiamo se posso girarti una domanda subito sì aspetta un attimo perfetto ecco qua perfetto allora quello di cui vogliamo parlare stasera come al solito partendo da un caso pratico vi faccio fare un piccolissimo passo indietro a venerdì 12 e la mattina di venerdì 12 immaginiamo di voler partire da eh dalla spezia da Fezzano per andare a macinaggio in Corsica quindi vediamo di ripercorrere i passaggi che un buon navigatore deve fare per pianificare questa navigazione quindi adesso racconterò qualche cosa e poi lascerò la parola Walter per eh per eh per entrare più in dettaglio e rispondere ad alcuni ad alcuni dubbi quindi questo appunto prendo io eh prendo io lo schermo dovresti soltanto togliere la condivisione tu Walter ok allora la prima cosa che possiamo fare è guardare la situazione complessiva quindi ragioniamo in termini molto molto generici e chiediamoci che cosa sta succedendo nel mondo eh nel mondo che ci circonda quindi quello che vedete qui sono il gradiente barico quindi quello che si chiama normalmente la la carta della pressione questa è una carta che ho scaricato dal dal GFS GFS è il sito di eh di modellistica e di previsioni globali quindi per tutto tutta la terra di origine americana ma potevamo utilizzare altri siti eh del tutto equivalenti quindi quando parliamo di una situazione così ad ampia scala normalmente le le previsioni sono abbastanza concordi e qui sostanzialmente quello che vediamo in questo momento quindi questo è centrato alle ore 12 UTC vediamo che c'è una bassa pressione eh sul Golfo di Genova e eh quindi una situazione di bassa pressione che si sta spostando con un'alta pressione qua che è in rimonta quindi qua se io avessi studiato questa carta con l'evoluzione avrei visto che c'era una una bassa pressione eh che si stava allontanando un'alta pressione in rimonta e poi qui avremmo visto una bassa pressione in formazione sulle isole Baleari e in progressivo eh approfondimento quindi qui avremmo avuto una bassa pressione e qui avremmo avuto un'alta pressione in rimonta quindi una situazione eh come si sul dire una situazione dinamica a questo punto io che cosa posso fare eh chiedo a a Walter di eh entrare più in dettaglio e parlare di modellistica quindi andiamo a vedere visto che abbiamo parlato la settimana scorsa di modelli andiamo a concentrarci sulla zona del Mar Ligure e vediamo a fronte di una situazione generale che cosa ci raccontano invece i eh i modelli del vento. Ok. Beh intanto facciamo anche un'altra eh considerazione Roberto eh noi eh come dire partiamo dal fondo nel senso partiamo da da quello che sono le informazioni che abbiamo eh dando un po' per scontato quello che era già stato detto domenica scorsa relativamente a a ai dati che arrivano tramite i modelli la loro attendibilità o meno magari centriamo meglio centriamo meglio dopo ma eh li prendiamo per buoni come se eh avessimo già chiaro come poterli in qualche maniera leggere poi andando avanti magari o con le domande o con degli altri approfondimenti eh andremo meglio nel 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 dettaglio no perché altrimenti bene questa questa immagine che vediamo è è quella di prima no sulla rotta è la situazione mh diciamo sì del modello GFS che è un modello a maglia a maglia larga globale eh in cui appunto in base a quella analisi eh che avevi fatto vedere te eh si intravede eh sulla sulla parte sinistra della rotta della rotta della rotta della rotta della rotta questa saccatura eh che si crea tipicamente nel golfo di Genova quando ci sono eh queste queste condizioni eh meteorologiche e quindi comunque il vento ha questa tendenza eh a entrare lentamente da 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 est la eh queste alle nove la visualizzazione eh e la saccatura è spostata leggermente a a sinistra continua a entrare il vento da da est a metà della diciamo sì della nostra rotta prescelta e questo invece a mezzogiorno più o meno un orario prossimo a quello che dovrebbe essere il nostro arrivo lo vedremo dopo e eh il vento che sta entrando ha eh praticamente chiuso sta chiudendo praticamente la saccatura eh a a nord ovest di della Corsica vado in fretta questo è un dettaglio invece alle cinque del modello eh Icon che è un modello di derivazione prevalentemente tedesco ha una maglia di nove chilometri e eh si vede insomma c'è un maggior dettaglio ecco qui vediamo alle cinque eh che la 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 saccatura è eh proprio sulla nostra proprio sulla nostra rotta e dopo vedremo che la rotta proposta eh sarà eh diversa da quella che ci proporrà il routage utilizzando il modello G GFS questo invece alle nove sempre Icon con la saccatura spostata più a sud ma sempre sulla nostra rotta e questo è invece a mezzogiorno comunque ce l'abbiamo davanti ehm davanti a macinaggio per chi conosce quelle zone al di là del fatto che poi si sia realizzata o meno questa è una situazione abbastanza abbastanza tipica no? Che quando c'è anche vento forte eh che proviene da est eh tutti si aspettano sul capocorso tanto vento e invece può crearsi questa questa situazione eh particolare. Questo invece è eh la previsione no la previsione non diciamo mai la previsione eh questa è la risoluzione del modello eh a Roma HD che arriva ora qui la vediamo uguale ad Icon ma eh arriva a una risoluzione eh di mezzo miglio di un chilometro sempre una risoluzione numerica eh cerchiamo di essere chiari e qui invece la la saccatura ce la mette un pochino più ad eh ad ovest vi anticipo che insomma ci proporrà una rotta eh un pochino più verso verso la Gorgona più a est ho sbagliato scusate poi infatti nel proseguire della della mattinata la saccatura eh risentendo della pressione del vento da est si sposterà eh più a ad ovest e eh per rimanere un residuo a nord 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 ovest della della Corsica a a mezzogiorno. Mh credo che basti Roberto vogliamo andare a vedere anche le rotte proposte. No ma allora io direi la prima domanda che mi viene a fare guardando questi modelli che sono in parte simili ma hanno delle differenze significative tu che commenti se tu dovessi guardare la queste carte come commenti generali sulla situazione che cosa che cosa mi diresti se sono io che ti ti ho chiamato per sapere per avere dei consigli su come partire dalla Spezia. Ma guarda io mh ti direi proprio guarda prendendo come ehm una un verbo quello che è stato detto domenica scorsa la situazione nel Golfo di Genova e nel Mar Ligure è sempre estremamente complessa perché se noi andiamo a a vedere appunto queste diapositive guardiamo queste queste schermate e ci rendiamo conto che eh quella quella saccatura che si viene a creare ha delle dimensioni ehm minime sarà avrà un diametro di venti trenta miglia non eh non di più però può diventare determinante per la navigazione eh in una navigazione media media lunga come può essere media chiamiamola così come questa eh a seconda dell'equipaggio di cui disponiamo e quindi può diventare eh fondamentale eh fare la scelta la scelta la scelta giusta. Io ti direi eh te lo sai perché ci siamo confrontati un po' su queste immagini no prima eccetera diventa facile perché io dico sempre no che quando il il ruolo del navigatore no quando va bene è fortuna io uso un altro termine ma quando va male è colpa è colpa sua eh quindi credo che io sarei andato dritto perché ehm la variabile per cui quella saccatura potesse essere in in una posizione piuttosto che un'altra sarebbe eh sarebbe stata abbastanza ehm indeterminata nell'arco di tre quattro cinque ore eccetera e poi nell'andare avanti avrei poi deciso eh che direzione prendere proprio in base a quelle essenziali osservazioni meteo che ci dicevano eh domenica scorsa cioè analizzando via via quello che si stava stava accadendo. Se lascia un momento questa slide voglio ancora fare un commento io no perché anche alla luce della complessità della situazione mediterranea voi immaginate guardando questa questo modello poi ovviamente è un modello ma possiamo anticipare un modello sufficientemente accurato. Voi immaginate se io vado a navigare in mezzo già soltanto se io da macinaggio invece che a Spezia volesse andare a Genova quindi volesse andare con una rotta praticamente eh dritta nord eh mi ritrovo venti che girano quasi di trecentosessanta gradi. Se io rimango un po' sul settore orientale mi trovo una tramontana molto forte qui vediamo tra i venti e i trenta nodi dritti in faccia quindi serve una rotta non percorribile. Mi sposto un po' a Levante e mi trovo un vento che apparentemente può essere piacevole perché trovo un vento da est eh quindici venti nodi che invece permetteva una navigazione di bolina larga attraverso eh chiaramente molto più agevole. Ma attenzione perché partendo da capocorso eh nella zona di macinaggio invece addirittura mi trovo un vento che viene richiamato dal 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 tireno meridionale quindi arriva scirocco quindi arriva un vento da sud est. Quindi vedete come eh l'incontro di questi venti lì a come diceva Walter in un oraggio di dieci, venti, trenta miglia crea questa depressione che potrebbe cambiare completamente di posizione in base a piccolissime variazioni di pressione, di intensità del vento e quindi la situazione può variare molto rapidamente. Quindi io magari penso di navigare eh con un vento attraverso e poi invece mi trovo il vento in faccia. Il modello che ha sbagliato no è la situazione aerografica del Golfo Ligure che è molto complessa e che come si diceva con Navi Meteo è addirittura proprio oggetto di studio. Tutti gli studenti di meteorologia del mondo prima o poi avranno un esame difficile in cui devono parlare di cosa succede nel Mar Ligure. Questo è un po' l'incubo eh di tutti i meteorologi. Quindi io arrivato a questo punto proseguendo un po' il percorso che deve fare il buon navigatore. Noi siamo a Spezza, dobbiamo partire, abbiamo guardato la situazione barica complessiva, abbiamo guardato la modellistica che vi ricordiamo ci sono numeri e sono numeri sputati fuori da un da un da un computer, da un sistema di calcolo. Cos'è l'informazione aggiuntiva a cui possiamo accedere? Ma l'informazione aggiuntiva a cui possiamo accedere, che è molto importante, sono i bollettini. Quindi il bollettino che cos'è? È l'opera di un di un essere umano, di un esperto, di un meteorologo del del Gianfranco Meggiorin della situazione che che fa guardi i modelli, guarda la situazione, ci mette tanta 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 sua esperienza e elabora una una descrizione verbale di quella che è la situazione. Visto che stiamo parlando del Mar Ligure, stiamo andando in Corsica, io vi faccio vedere per quella giornata di venerdì 12 febbraio che cosa ci diceva Meteo France, quindi che cosa andiamo a leggere su Meteo France. Anche qui è importante leggerlo con attenzione perché potremmo avere delle informazioni che potrebbero magari trarci in inganno. Allora io la prima cosa che faccio, visto che devo attraversare il Mar Ligure, vado a vedere il bollettino, quello che i francesi chiamano bollettino large, che quindi il bollettino in mar aperto, quindi il bollettino in mar aperto per il Mar Ligure. E io che cosa trovo? Trovo che c'è un BMS, che è un bollettino meteorologico speciale, quindi è quello che è l'equivalente in italiano dell'avviso di burrasca, che dice che c'è una burrasca in corso e prevista per il Mar Ligure. Quindi dico, porca miseria, c'è una burrasca lì davanti da qualche parte. E se vado a leggere la situazione generale, leggo Mediterraneo occidentale, depressione che si sta approfondendo a nord delle Baleari per spostarsi verso est e poi trovarsi sul Mediterraneo sabato pomeriggio. Quindi c'è questa depressione di cui abbiamo parlato prima. E sul Mar Ligure in particolare mi dà vento nord-est, 4 a 6, in rinforzo 6 a 7 in fine giornata e arriva addirittura alla notte a forza 7-8 con raffiche. Quindi situazione che sicuramente fa passare un po' la voglia di navigare, leggere una cosa del genere. Qui ricordiamoci sta parlando di una situazione su media scala, tutto il Mar Ligure. Abbiamo visto che i modelli vanno poi già invece a dettagliare che succede qualcosa sulla zona ovest e qualcosa di diverso sulla zona est. Per completare questa informazione cosa faccio? Sempre bollettino, vado a vedere il bollettino della Corsica. Il Metro France è un sistema di previsioni meteorologiche molto efficace perché innanzitutto distingue tra bollettini a largo e bollettini costieri e poi i bollettini costieri li dettaglia zona per zona. Quindi vado a vedere il bollettino per la Corsica. Allora innanzitutto qua mi dice, mi leggi in dettaglio il bollettino di Bovasca che vedete dice bollettino speciale per la Corsica, vento in rinforzo settore nord-est, localmente 8 a sud della Chiappa, raffiche e quindi va bene, quindi questo è quello che avevamo già visto. Se io però vado a leggere il bollettino di dettaglio, quello che vedete qui in basso nella slide, cosa mi dice? Mi dice che sulla zona nord, la Balagna è la zona di Calvi, qua mi dice vento variabile 2 a 4, quindi sostanzialmente poca roba, direzione variabile, che si orienta direzione nord-est 4 a 5 alla fine pomeriggio. Quindi qui tutta quella botta di vento forte di cui abbiamo parlato mi sta dicendo che però sulle coste della Corsica non arriva. Quindi è una situazione per esempio che mi fa capire che è una situazione che si verifica al centro del Mar Ligure, ma non lungo le coste e quindi questa è un'indicazione aggiuntiva che io potrò incrociare con i modelli perché evidentemente questo forte grecale tramontana è qualcosa che si sviluppa dalla Liguria e si spinge in avanti nel Mar Ligure ma che non raggiunge sostanzialmente le coste della Corsica. Quindi a questo punto io non nascondo che guardate la situazione barica complessiva, guardate i modelli che posso aver trovato su una qualunque app come Windy, sono andato a legge i bollettini meteo e sostanzialmente mi rimane una certa confusione mentale perché dico ma allora c'è vento, non c'è vento, sto a est, sto a ovest, quindi io magari non ho tanta esperienza e ho qualche difficoltà a decidere se partire, come partire e dove andare. Allora a questo punto io decido di fare un po' una magia, quindi chiedo a Walter di aprire come un prestigiatore la sua scatola magica che è la scatola del Routage e di raccontarci come un Routage può farci vedere la nostra la nostra rotta migliore. Allora Walter, visto che è un prestigiatore, ma un prestigiatore serio, ci racconterà quali sono gli ingredienti della magia che sta per manifestare davanti ai vostri occhi e poi lascia lui la parola a tempo alto, quindi raccontaci che cosa può aiutarci a fare il Routage se siamo in dubbio o se partire o meno. Allora, prima di fare il Routage credo che sia fondamentale, almeno una impolverata, diciamo sì, di alcuni dati che probabilmente molti di quelli che stanno seguendo la diretta conoscono, però credo che sia essenziale descriverli. Anzi, cerco anche di essere, cercherò di essere il più semplice possibile, però come sai Roberto, nel cercare di essere semplice a volte si usano termini un po' come dire banali che non sono proprio il massimo della tecnica, però cerco di raggiungere l'obiettivo. Allora, intanto il sistema di Routage, diciamo così, è un sistema che viene fatto tramite dei modelli matematici. Che cosa fanno questi modelli matematici? mettono insieme i dati della barca, le capacità, le prestazioni della barca con i dati numerici dei modelli che abbiamo visto. I dati dei modelli meteo sono griglie numeriche che ci dicono tutta una serie di informazioni e la loro evoluzione nel tempo in una determinata area. Poi vedremo anche come sono, che caratteristiche hanno e invece le prestazioni della barca sono anche questi dati numerici inizialmente teorici, poi chi fa regate va anche a approfondirle e a dettagliarle trasformandole in dati reali con le misurazioni costanti delle proprie performance della barca, ma qui cerchiamo noi di parlare per un utilizzo del Routage soprattutto per, in questo momento, per il diporto e per la sicurezza, perché ci può aiutare a prendere, a determinare delle scelte in maniera sicura. Quindi io vi parlo un attimino delle polari che sono i diagrammi con i quali vengono calcolate o meglio riportate allo strumento elettronico le prestazioni della barca. Si chiamano diagrammi polari perché questo grafico che qui si vede è un grafico polare dove sono riportate tutte le prestazioni della barca, ve le vediamo a seconda dei colori eccetera, alle diverse andature, cioè viene riportato nella tabella di destra qual è la velocità che la barca teoricamente dovrebbe fare ad un determinato angolo reale al vento con una determinata intensità, intensità di vento. Questo viene riportato quindi in in un foglio di calcolo e questo foglio di calcolo con... Dimmi... Non hai condiviso lo schermo, non si vede. Ah, vi chiedo scusa. Ecco, ecco. Ecco. Scusatemi. Ecco qua. Fantastico. Allora, ritorno, ripeto quello che avevo già detto. Praticamente qui abbiamo un foglio di calcolo dove viene riportato il eh le prestazioni della barca, i teoriche in funzione del ehm dell'intensità del vento e della direzione del vento e viene riportato su quel diagramma. In pratica eh quel diagramma serve per farci capire quanto è il nostro eh visto che noi non andiamo mai contro vento, va bene, quanto è poi il nostro avanzamento eh reale rispetto 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 al vento. riportato sulla sull'asse dritto della della di quel di quello schema. Aspetta un attimo. Ecco qua. Questa è una tabella che chi ha, chi fa regate per esempio, questa qui è la la tabella che viene riportata, sono le VPP, le le la velocità predittiva eh teorica della barca che viene riportata sui certificati di certificati di stazza delle barche che fanno che fanno le regate eh questo può essere appunto uno degli eh strumenti con i quali si può eh utilizzare eh utilizzare la i dati i dati numerici. Dobbiamo distinguere fra il dato reale e il dato teorico perché eh dipende molto insomma diciamocelo fra francamente sia dal manico che da tante altre variabili eh la 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 condizione della barca, le le vele, il eh questo non tiene conto per esempio delle onde del della corrente eccetera. Per far capire eh l'uvo altri trenta secondi per far capire un pochino eh meglio utilizzo questa eh questa slide, questa questa diapositiva, in pratica eh noi riusciamo qui qui riusciamo a vedere la barca a seconda di come viene condotta rispetto al al vento, quanto riesce a risalire il vento, ci sarà un angolo, a volte c'è la tendenza a voler per valorizzare di più per raggiungere meglio il proprio eh obiettivo eh invece eh c'è sempre una un angolo migliore per ottenere una un un avanzamento un avanzamento migliore. Poi eh questo può essere tranquillamente eh variato rispetto al comfort che vogliamo avere nella nella nostra nella nostra navigazione. Eh poi che cosa eh parlo ora dell'esocrone Pao eh Roberto? Sì, sei messo tutti gli ingredienti, abbiamo eh questo eh il clip eh certo vai pure tutto tuo. Allora in pratica a questo punto cosa succede? Il come dicono francesi l'ordinateur insomma il il computer eh mette insieme le informazioni che vengono dai modelli meteo, mette insieme le informazioni della della prestazioni teoriche della 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 barca e a questo punto eh ci deve ci prova a consigliare quello che potrebbe essere la la rotta più veloce per eh raggiungere un un punto. E e che cosa si eh utilizza? Utilizza il sistema delle isocrone. Ve lo provo a far vedere un attimino eh in pratica partendo da da un punto calcola calcola tutti i punti che in un intervallo di tempo dieci minuti mezz'ora a chi fa l'oceano tre ore eccetera riesce a raggiungere eh nell'arco del tempo. Dopodiché ricalcola sempre con le informazioni relative a quel punto lì a quel punto lì con il meteo quindi c'è una sequenza temporale eh eh ricalcola nuovamente il la distanza che potrebbe percorrere eh in base incrociando appunto il il vento che eh è previsto e eh i dati della eh prestazioni della barca e questo per tutte le varie eh scalature del del tempo no? qui vediamo partendo da un punto no? C'è eh un intervallo di tempo c'è un intervallo d'angolo e quello che onestamente bisogna dirlo no? Un vecchio marinaio mi potrebbe dire ma io lo facevo da solo in base alle previsioni guardando il cielo eccetera. purtroppo i i vecchi marinai eh erano non erano tanti prima ed erano tutte persone d'esperienza eh ora tante persone vanno per mare e hanno bisogno di 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 un possibile aiuto quello che dico io e che consiglio veramente a tutto è che tutto quello che viene fuori da questi dati da questi risultati va preso solo e soltanto con con le molle deve essere soltanto un aiuto per farci fare un ragionamento in più e per farci eh capire quello che potremmo incontrare eh perché ad occhio io che parto dalla spezia e vado a macinaggio con le previsioni posso dire sì più o meno sarò eh in quel in quel punto soprattutto se conosco la mia barca quella che può essere la sua prestazione eccetera però magari un un aiuto in più no? Che ti dice guarda se se le previsioni sono confermate e lo dovrai verificare momento per momento a quest'ora potresti essere qui e potresti trovarti invece venticinque nodi eh in prua ecco e questa poi è un'altra eh descrizione no? le linee gialle sono quelle che sarebbe la distanza che si può raggiungere nell'intervallo del tempo e la linea rossa nel centro è quella che descrive più o meno eh la rotta la rotta ottimale ti dà la rotta ottimale poi vedremo dopo se c'è tempo anche si può mettere anche dei parametri di comfort dove si riduce il vento e si dice che non voglio affrontare più di un certo vento non voglio affrontare più di una certa onda eccetera. Mi sembra di aver detto tutto Roberto non so dimmi tu sì sì vediamo vediamo le rotte vediamo che cosa l'elaborazione a questo punto. Ah ok a questo punto allora andiamo a vedere quello che ci consiglia eh quella quella mattina quella mattina lì i vari modelli che abbiamo eh che abbiamo visto. bene se ci ricordiamo quello che avevamo detto vale a dire che ehm GFS questa è il routage che ci propone il GFS la barchetta è lì a alle nove quella arancione al centro. Condividi lo schermo Walter lo schermo? Ah scusami ah porca miseria. Non me lo fa condividi aspetta un attimo. Ok. Ok. Dunque se ricordiamo quello che avevamo detto prima va bene questo è il modello GFS quello a maglia più larga. hm quindi meno dettagliato dava questa saccatura più a ovest e quindi ci consentiva tutto sommato di eh fare una rotta quasi eh quasi quasi diretta. eh se se vediamo lungo il il percorso ci sono eh chiamiamole le freccettine con la direzione d'intensità del vento da un lato dall'altro lato c'è la direzione di quella che potrebbe essere la corrente e l'onda che andiamo a incontrare. E infatti arrivando verso macinaggio piano piano aumenta il vento e ci ritroviamo un pochino di onda ehm onda contro ma non abbiamo il vento contro. Questi strumenti ci consentono anche vi faccio vedere solamente due schermate rapidamente ci consentono di avere un'analisi anche un po' delle condizioni che possiamo andare a trovare. in pratica la questa navigazione ci dice che è settantuno miglia e mezzo che dura nove ore nei grafici a destra vediamo che il vento è quasi esclusivamente da nord est est nord est e sotto invece il vento sarà concentrato prevalentemente fra i cinque e dieci nodi e i quindici e venti nodi in quel range lì ci sarà solamente una una un po' di vento fra venti e venticinque nodi ma se andiamo poi a vedere quello che ci dice come modello la la previsione noi vediamo che la linea blu è quella che ci fa vedere ehm l'intensità l'intensità del vento avremo fra le dodici eh fra le nove e trenta e le undici diciamo sì avremo più di diciotto nodi ma le avremo se guardiamo il disegnino della barca sopra a al mascona insomma anzi al giardinetto eh e quindi un un vento un vento un vento in poppa eh quindi eh una navigazione seppure con un vento intenso tutto sommato accettabile direi io poi insomma dipende dai dai da da chi va in mare questo invece è quella che è la rotta consigliata da da Icon che è un modello appunto come dicevamo a maglia più più stretta ci fa scansare la 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 saccatura che eh abbiamo abbiamo davanti o comunque che prevede che ci possa essere eh che ci possa essere davanti quindi già è molto diversa come come soluzione proposta no? E anche qui abbiamo un vento prevalentemente da eh nord est in pratica e non supera mai i i venti nodi quindi eh tutto sommato eh si arriva a venti nodi ma eh è un vento portante che ci aiuta che ci aiuta eh abbastanza. Roberto interrompimi eh se ti giro solo una domanda che è arrivata da da Facebook forse non ci è sfuggito non ne abbiamo detto ehm vuoi soltanto menzionare qual è il programma che stiamo utilizzando adesso? Ah sì allora questi sono degli screenshot di Squid eh anzi ehm questo è SquidX che è eh un software che eh gira ehm stato scelto apposta io solitamente mi diverto di più con un altro che faremo vedere dopo ma questo ha il grande vantaggio di eh girare sia su eh Windows sia su Mac ma anche eh ci sono le applicazioni per Android e per iOS quindi è veramente multi piattaforma e quindi fornisce è gratuito eh il download ehm poi vedremo ma insomma eh invece i modelli meteo eh oltre il GFS eh sono eh sono a pagamento eh però hanno dei costi tutto sommato tutto sommato ragionevoli. Tieni presente che molti dei modelli per chi è un come dire un eh un nerd internauta si possono anche trovare non immediatamente e gratuitamente però diciamo è molto più funzionale e rapido per qualche decina di euro eh utilizzare gli abbonamenti. ecco aggiungo solo visto che ho visto altre domande ehm commenti su questo eh prima della fine della dell'incontro faremo poi anche vedere una una tabella riassuntiva un po' di eh di vari modelli di vari vari applicazioni e vari programmi che possono essere utilizzati quindi questo è sicuramente uno eh è uno di questi ehm intanto Gianni vorrei fare una domanda tu su questo? eh sì volevo chiedere questo il modello ti fa il calcolo diciamo nel momento in cui tu lo lo realizzi ovviamente ipotizziamo che dopo sei ore di navigazione tu hai ottenuto una velocità che non è quella prevista diciamo la metà il modello si automatizza e quindi ricalcola e riprevede la rotta sulla base della nuova posizione oppure rimane quella precedente? no allora dipende da allora poi lo vediamo magari ma dipende dai software dipende dagli applicativi ci sono i software professionali eh che costano qualche migliaio di euro tipo Adrena tipo Expedition eccetera che fanno questo tipo di operazione quasi in eh in automatico le applicazioni quelle che io definisco la democratizzazione delle informazioni ehm a seconda degli applicativi possono rifare assolutamente sì dalla posizione dove eh dove sei perché interfacciandoti con gli strumenti interfacciando l'applicazione con gli strumenti della barca ti fa la traccia come fai solitamente se uno usa non so la cartografia Navionics eccetera eccetera ti rimette la posizione e fa vedere la differenza e te fai la la rotta da quella posizione lì alla nuova alla 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 destinazione a quell'orario lì con il modello di cui disponi eh perché come è stato detto la scorsa settimana i modelli quando arrivano ad essere utilizzabili come rilevazione del dato sul quale poi fanno tutte le lavorazioni sono già vecchi di sei di sei ore. Poi c'è un altro eh intoppo che ci può essere è che alcuni applicativi fanno la ehm il routage soltanto eh questo è l'inconveniente del costo no? Alcuni applicativi fanno eh il routage solo se sono eh online per cui mandano la richiesta al server e tornano indietro quello che uso io se hai te scaricato le previsioni anche se possono essere vecchie di qualche ora ti consente di farlo eh offline direttamente la la il routage e quindi c'ha questo questo vantaggio. Quindi funziona bene per chi ha riesce a tenere la velocità delle polari e e invece chi probabilmente non non ce la fa o si può inserire una velocità più bassa nel momento in cui si si utilizza il modello eh oppure bisogna focalizzarsi molto sulla velocità della barca. Ma e dipende ma certo ma guarda puoi tranquillamente nel allora in questi eh applicativi puoi anche eh mettere un un gap sulla sulla polare cioè dici dieci per cento quindici per cento venti per cento e meno di prestazione. Certo e ultima cosa ovviamente poi la modifica che tu vorrà richiedere diciamo anche pur avendo il software quello più elaborato ehm presupporrà immagino che ci voglia una connessione internet quindi se se sei a metà del del percorso probabilmente in ogni caso non riusciresti a a modificare. Allora eh diciamo diciamo così che eh in un percorso di nove ore come questo eh credo che mh la la l'obsolescenza del dato sia tutto sommato non tanto rilevante rispetto a quella che è l'osservazione del dato reale da parte di Kinnavi. onestamente cerchiamo di essere se no veramente ci affidiamo troppo a lo dico lo dico da da appassionato di questo argomento ma se no ci affidiamo troppo a a tutto questo. Poi c'è anche la possibilità però ti ripeto se te hai scaricato il dato meteo alla partenza in questo caso qui puoi rielaborare con alcuni applicativi eh la rotta con il dato che hai a disposizione. che poi vedrai se è coerente o meno con quello che stai osservando perché è essenziale questa questo questo elemento. Guarda intervengo anch'io tra l'altro cerco di rispondere ehm ad alcune delle domande ne sono arrivando ovviamente tante. Allora innanzitutto in generale ehm questi applicativi non girano solo su PC ci sono a vedere Walter a breve ehm ehm oltre a SquidX altri applicativi molto belli che girano eh su eh su tablet quindi su iOS o come SquidX che gira tranquillamente su eh sia su Android che su iOS quindi per farli girare non è necessario avere un PC a bordo. Il 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 loro grado di autonomia eh quando non abbiamo un collegamento internet riguarda due aspetti. Allora noi l'autonomia è uno poter scaricare i dati meteo quindi chiaramente se non ho satellitare sono in mezzo al mare i dati meteo non riscarico. Eh come diceva Walter innanzitutto in navigazione in Mediterraneo normalmente il periodo in cui siamo fuori senza copertura dati è molto breve. Per esempio a queste rotte qua le conosco molto bene partendo dalla Spezia e andando verso eh la Corsica per un bel po' si è sotto la copertura delle cede telefoniche eh della eh della Versilia. Poi ci si avvicina a Capraglia e si aggancia la rete di Capraglia quindi in realtà stiamo parlando di poche ore di mancata copertura quindi ci hanno dei dati aggiornati. Poi ci sono degli applicativi magari un po' più semplici più economici che il calcolo del routage non lo fanno sul vostro PC sul vostro tablet ma lo fanno girare su un un server eh che è proprietario che è piazzato da qualche parte in America in Inghilterra in Germania eccetera. Quindi in quel caso per esempio come come con Squid se non avete un collegamento internet anche se avete i dati meteo eh voi non potete far girare il routage. Ci sono altri programmi via via più sofisticati che invece fanno girare tutto sul sul vostro dispositivo e quindi hanno un'autonomia eh un'autonomia molto maggiore. Eh un'altra domanda che eh c'è stata fatta eh qua su Zoom la leggo io perché la rimando più che altro dopo eh ci chiedono se il modello mi mi permette di scansare le zone che considero pericolose eh o che considero poco performante. Li ho un po' collegato a quello che diceva Gianni. Il modello mi permette di dire voglio navigare eh sotto in velato e quindi vado più lento delle polari. Allora lo vedremo poi dopo eh questi questi sistemi hanno tutta una serie di opzioni. Ci vorrebbe davvero una giornata in aula a giocarci sopra per imparare a usarli correttamente. ma ci permettono tantissime opzioni. Quindi la risposta è sì eh ma ne parliamo tra dieci minuti. Così adesso eh andiamo avanti su questa permettiamo a Walter di finire l'analisi dei eh per far vedere le differenze. Questo è molto interessante quello che sta facendo vedere Walter. Cioè ci sta facendo vedere come modelli diversi ci portano a tracciare volte diverse. Quindi Walter rimando a te. Eh sì ehm guarda ehm riprendendo quello che hai detto te ma solo brevemente. Eh noi possiamo eh eh inserire nella nella diciamo sì nel l'elaborazione del routage diversi parametri. Il vento massimo che voglio trovare in poppa, il vento massimo che voglio trovare in in prua, l'onda massima o addirittura mettere la velocità della barca e dire se io faccio meno di due nodi a vela eh dimmi eh impostami la rotta a motore facendo sei nodi e fammi vedere a che ora a che ora arrivo. Ecco quindi ci sono tanti elementi eccetera. Ma ripeto vanno usati per ragionarci sopra, non per seguirli in maniera eh pedisse qua insomma. Allora qui allora stavamo parlando dell'ultimo modello, quello di Aroma HD. Non vi nego che è è uno dei modelli che io utilizzo sempre di più perché è uno dei più dettagliati e precisi. Eh questo non vuol dire che sempre ci indovini. Questo vediamo ecco eh vediamo che ha un eh invece mentre gli altri dicevano tutto che era est nord est e qui est nord est non ne vediamo quasi niente. È tutto est sud est e da ultimo sud sud est con un bel dieci per cento di eh vento su fra i 20 e 25 nodi. Ecco questo è già un un eh faccio una battuta Roberto eh mi è capitato eh anche di eh avere qualcuno a bordo che mi ha detto ah ma allora scegliamo il modello quello più confortevole no perché non come dato di analisi ma scegliamo quello senza tener conto che non è la realtà tutta questa. E qui vediamo infatti che abbiamo un vento al eh attraverso all'inizio eh di eh più di venti no di 25 nodi che poi andrà piano piano a calare ma mentre va a calare quindi mentre ci avviciniamo alla alla Corsica ci eh ci gira in in prua. È una bolina larga ma che poi sappiamo benissimo da reale si trasforma in una bolina più 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 stretta. Alla fine eh è secondo me carino vedere le tre proposte che ci vengono ci vengono fornite. Quella al centro è quella col modello GFS, quella a sinistra è quella quella ovest è quella dell'Icon e quella a est è quella del della Roma HD. Quale scegliamo? Io questa parte l'avrei finita Roberto dimmi tu. Certo. Hai delle domande? O se andiamo avanti. Sì allora guarda aggiungo ancora una domanda che è interessante che è arrivata su ehm arrivata su eh su Facebook da Claudio che chiede ma questi modelli tengono anche conto della scaro dello scarroccio della deriva? Allora se impostiamo eh l'onda prevista e eh la corrente prevista eh sì entro certi limiti sì e i limiti quali sono? Eh sostanzialmente sulla corrente noi purtroppo come diceva anche Meggiorin eh la scorsa settimana eh non abbiamo dei dati numerici sulle correnti che siano molto molto eh affidabili. Poi sì sì allora guarda e magari mi collego proprio a questa domanda così porto anche una una mia esperienza un'esperienza di di navigazione. Allora chiaramente eh tu quello che si stai facendo vedere è quello che succederà cioè anzi un tentativo di prevedere quello che succederà sia a livello a livello di evoluzione meteo eh che poi incrociando l'evoluzione meteo con quella che sono le caratteristiche della nostra barca e quindi otteniamo queste 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 diverse rotte poi si tratta di valutare quale mette quale modello riteniamo più affidabile per scegliere quale seguire però da un punto io ritorno dal punto di vista del navigatore cioè io devo anche fare eh delle altre valutazioni eh che sono eh che cosa è successo prima perché noi stiamo guardando una situazione puntuale sul futuro allora se io guardo quello che è successo prima cioè quello che è successo nelle dodici ore precedenti vediamo se riesco a farvelo vedere eccolo qua allora questa è la situazione a luna di notte a luna del mattino di venerdì allora vedete che a luna del mattino eh di eh del venerdì prima della partenza noi avevamo una situazione classica devo dire che era quella di una eh depressione una profonda depressione qua sul Mar Ligure con dei venti tipo depressionario in rotazione depressionaria intorno al al alla bassa pressione. questo in particolare ci portava sulla zona della di Capocorso e al lago di Capocorso di avere la classica situazione di venti da eh da l'ibetcio eh intensi quindi questa era la previsione che da 28 nodi eh purtroppo non sono riuscito a salvare lo screenshot ma se fosse andato a vedere il vento misurato nella notte dalla stazione meteorologica di Capocorso che tra poco vedremo è un dato che possiamo a cui possiamo accedere in tempo reale quindi la stazione meteorologica meteorologica posizionata qui sul capo, le raffiche di vento sono arrivate a 35-38 nodi, quindi vuol dire che per tutta la notte nella mia zona di navigazione ha soffiato un libeccio con un fetch di centinaia di miglia. Quindi un vento di questo tipo ha sicuramente generato un'onda molto importante, tra l'altro sappiamo tutti che nella zona a largo di Capocorso, tra Capocorso e la Giraglia c'è un innalzamento importante dei fondali marini, quindi qui l'onda tende addirittura a frangersi, ma comunque quindi anche a largo onda è importante e di conseguenza quest'onda come si manifesta adesso? Adesso il vento è girato, è entrata la tramontana, è entrato il levante, ma sicuramente rimane un fenomeno di onda lunga importante, magari anche un paio di metri di onda lunga quando mi allontano da Spezia. Allora, i modelli di routage che cosa riescono a inglobare? Inglobano le correnti sicuramente, quindi la deriva viene valutata, possono inglobare lo stato del mare, quindi posso dire sto navigando in mare piatto, in mare mosso, in mare molto mosso, ma come informazione generale, non riescono a inglobare il dato dello scarroccio e quindi il dato dello scarroccio è una di quelle variabili che ritorna nelle mani dello skipper, cioè il comandante che deve decidere cosa fare, deve tenere conto di questo elemento, per esempio se io vado in Corsica partendo l'anile di mattina, devo tenere conto che sicuramente incontrerò onda lunga e anzi, onda lunga da sud ovest che incontra un vento fresco da est di 15, 20, 25 nodi, vorrà dire che mi trovo mare incrociato. Allora, nella mia definizione della comfort zone, della mia zona di sicurezza, dipenderà dalla barca, dipenderà dall'equipaggio, magari se sono con la mia famiglia, con bambini piccoli, magari non voglio navigare per 5, 6, 10 ore in un mare di questo tipo, quindi è sicuramente anche se sono con un equipaggio da regata, rispetto alle polari teoriche, un'onda lunga di prua con mare incrociato sicuramente mi comporterà un rallentamento, un peggioramento di quella che è la mia performance e quindi io per esempio dovrò tenere conto, tenere conto magari dicendo le mie, decido di fare un downgrade delle mie polari e dire al programma di routage, consiglio che io non navigherò al 100%, non navigherò in velocità target, magari andrò all'80, al 70, al 60, quanto fortunatamente rimane un margine importante di discrezionalità e di competenza dello skip, quindi come si diceva è importante sfruttare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, però dobbiamo essere noi alla fine a fare una sintesi. Un altro aspetto di cui volevo però parlarvi è abbiamo visto il passato, abbiamo visto il futuro, vi ricordate chi di noi, voi era con noi nell'incontro con Meggiorin, si diceva anche alziamo le antenne e impariamo a guardarci intorno perché anche l'osservazione del presente ci permette di capire che cosa sta succedendo. Allora se io parto da Fezzano, come sapete il Golfo di Spezia è molto ridossato, io di quello che c'è fuori della piccola depressione che si sta formando eccetera, io non vedo nulla, però di nuovo fortunatamente la tecnologia oggi ci offre degli strumenti in più che mi permettono di allungare un po' più l'antenna. Allora vediamo due esempi di questi strumenti che sono proprio alla portata di tutti. Ne abbiamo già parlato nel primo incontro, comunque uno strumento che usiamo in navigazione è l'AIS, quindi l'AIS è quel trasmettitore che le navi e le imbarcazioni possono avere a bordo che trasmette i nostri dati di navigazione che funziona sostanzialmente come un sistema anticollisione. Allora le navi in particolare hanno un trasponder che oltre alla loro rotta e velocità e posizione, trasmette anche alcuni dei dati rilevati sul momento, in particolare temperatura dell'aria e vento. Quindi facciamo un esempio, io mi collego a un sito internet come per esempio Marine Traffic, ma ce ne sono altri, che sono quei siti che ci fanno vedere il traffico navale, quindi le navi che stanno trasmettendo con l'AIS e che sono viste, che sono spazzolate da una stazione di terra, quindi qua non stiamo vedendo tutte le navi che ci sono in Tirreno, in Ligure, ma stiamo vedendo quelle navi nel Mar Ligure che le stazioni terrestri riescono a ricevere. Allora io ho qua indicato con una freccia rossa, qui c'è una nave che è posizionata più o meno, io siamo alla partenza, quindi è venerdì mattina, questa è una nave che è posizionata più o meno dove si doveva creare quella saccatura di cui ha parlato prima volta, quella saccatura che i modelli di dettaglio prevedono e che i modelli a maglia un po' più grossolana non prevedono. Allora io a quel punto cosa faccio? Clicco, posso cliccare su questa nave, mi si apre uno schermo di dettaglio che mi dà tutta una serie di informazioni, mi dice come si chiama la nave, mi dà il MMSI, la posizione, mi dice che sta navigando con, vedete qua, con una velocità di 11,9 nodi, rotta a 334 gradi, eccetera, e poi importante mi dà quello che sta misurando, mi dice che questa nave sta misurando un vento da est, velocità 20 nodi. Adesso poi passerò la parola di nuovo a Walter che commenti questo dato, ma sostanzialmente io quello che vedo è che questa nave che si dovrebbe trovare all'interno della saccatura, invece che avere il poco vento che c'è all'interno, al centro della depressione, mi dice che ci sono 20 nodi da est, è un'informazione puntuale. Così come io posso andare a vedere la stazione meteorologica di Capocorso, quella di cui abbiamo parlato prima, questo è uno screenshot di Windy, quindi un'app disponibile gratuitamente a tutti, qua mi sta dicendo che la stazione meteorologica di Capocorso, l'ho evidenziato in rosso, vedete che mi indica un vento di direzione 240 gradi, quindi sostanzialmente un sud-ovest, 11 nodi di velocità, quindi una previsione di vento per esempio ben diversa da quella che mi prevedevano i modelli per esempio a Roma. Qua è interessante, se qua guardiamo sotto, lo sto puntando con l'ivenizzatore, qua fa vedere l'evoluzione del vento anche nella notte, vedete che nella notte di venerdì, nella notte di venerdì il vento era stato di intensità anche ben maggiore, come abbiamo detto durante la notte, c'era stata la notte tra giovedì e venerdì una violenta burrasca da sud-ovest. Adesso a questo punto però rigiro la palla a Walter e dico allora io vedo queste cose, tu che conclusioni ne traresti in base ai tuoi modelli, utilizzando anche quello che le mie antenne mi fanno vedere oggi. Roberto, ti direi che quello che avevo proposto all'inizio vale a dire di cercare di andare più dritto, probabilmente era la soluzione migliore proprio per la indeterminatezza che queste saccature creano nella loro crescita, nascita, evoluzione e poi spostamento. Perché? Perché avremmo comunque poi potuto evitare lunghe curve sulla sulla nostra sulla nostra rotta, decidendo poi volta per volta, a seconda dell'evoluzione reale, quello che eventualmente avremmo potuto fare. E' interessante vedere quello quello che poi eh perché noi abbiamo io ehm avevamo degli screenshot però ehm ho salvato su Squid la la situazione e ora ve la metto un attimo in in condivisione. ve la metto in condivisione e in pratica ecco noi vediamo qui le ora ho tolto la rotta quella GFS eccetera. In pratica eh questo puntino qui eh dove c'è scritto meteogramma su Squid è eh il punto dove più o meno eh te hai fatto la la rilevazione di eh di quella nave no Roberto? Esatto esatto. Allora hm hm eh tutti i modelli hanno la possibilità di eh se salvati eh hanno danno la possibilità di eh poter accedere alle informazioni anche in maniera come dire sovrapposta. Se io clicco su meteogramma qui in questo caso eh vedo le informazioni più o meno anche per chi conosce Squid molto simili e alle 12 del 12 se io guardo i vari modelli qui vedo GFS mi dava addirittura Ovest, Icon Sud-Ovest, Arpege Sud-Sud-Ovest, a un certo punto ECMVF che è l'Irlam A9 che tra l'altro viene utilizzato anche dall'AMMA come modello base per le sue elaborazioni, guarda caso ci dà 20 nodi da 80 gradi che è più o meno quello che ci riporta la nave, quindi a Roma addirittura invece 12 nodi da sud, quindi la situazione è che un modello ci aveva indovinato, quindi ma come fai a prenderli tutti? No, è un ragionamento che dobbiamo fare anche come debriefing successivamente per prendere esperienza su quello che abbiamo vissuto. Se io vado a guardare però quella che potrebbe essere stata l'evoluzione reale, d'accordo? E prendo l'analisi fatta dalle carte mete prese da Bracknell e anche queste si possono scaricare, va bene? Bene, io vedo che alle, farvi vedere, eccoci, noi avevamo una previsione per le 12, d'accordo? Di una, l'avevi fatta vedere anche te, no? Un centro barico che si stava formando a nord delle Baleari e qui una situazione a nord della Corsica dove non era visibile almeno in quelle dimensioni la nostra saccatura, eccetera. Che cosa è successo in pratica? Il centro barico, almeno come previsione, poi si era spostato a sud, ad ovest della Sardegna richiamando aria da est al nord della Corsica. Questa situazione che era prevista per la mattina successiva evidentemente si è anticipata e quindi ha fatto sì che quella saccatura che noi avevamo visto e sulla quale avevamo fatto tutti i nostri ragionamenti per fare valutazioni scelte che il Routage ci aveva indicato, si era chiusa ben prima e abbiamo trovato una situazione, una situazione diversa da quella che più o meno quasi tutti i modelli al dettaglio ci davano. Spero di essere stato chiaro. Sì, io guarda, faccio anch'io ancora un commento, se rilasci quell'immagine che è l'ultima, se la lasci in condivisione, io rispondo anche a una domanda che è arrivata, un commento che è arrivato da Facebook. Da Facebook, esatto, un commento di Patrizio Rosi. Allora, chi mi conosce sa che quando navigo in Tirreno io sono abbastanza un fan dei dati di Arom di Metro France che trovo un modello che ha una grande affidabilità nella descrizione soprattutto dei fenomeni orografici che poi anche quando siamo in mar aperto tra la Liguria e la Corsica l'orografia è poi sempre quella che comanda sostanzialmente, è come se navigassimo in un grande lago alla fine. E quindi Arom statisticamente è un modello molto affidabile perché ha una descrizione dell'orografia molto precisa. Però teniamo conto anche di altri elementi, cioè non fermiamoci soltanto a pensare il modello con la griglia più stretta e il modello corretto. Perché per esempio in una situazione come questa in cui noi abbiamo confrontato, Valt ha confrontato due modelli a griglia relativamente stretta, Icon e Arom, che normalmente danno indicazioni simili. Icon normalmente sottostima un po' la forza del vento e Arom, direi nella mia esperienza, ci prende un po' di più, ma però per il resto sono concordi. Nel momento in cui invece abbiamo due modelli a scala dettagliata, a distanza di poche ore, qui stiamo parlando di 6-12 ore di previsione, che danno indicazioni molto discordanti, una mi indica una saccatura tutta spostata a Levante, l'altra la saccatura tutta spostata a Ponente, qualche domanda me la devo fare. I due modelli, anche con una previsione a breve termine, divergono. Quando i modelli divergono, le previsioni che emergono hanno un livello di affidabilità basso. Quindi sicuramente io avrei detto, prima di andare a guardare cosa mi raccontava la nave, avrei detto qui sicuramente c'è una situazione confusa. Può avere ragione uno, può avere ragione l'altro, magari hanno torto tutte e due. Infatti in questo caso il modello più glossolano come scala, più GFS, alla fine era quello che aveva ragione, perché quella saccatura evidentemente o non si è formata o si è formata ancora più a Ponente, quindi non è andata a condizionare il vento davanti a Capocorso. Quindi attenzione, una strategia che poi è quella che usano i meteorologi nell'elaborazione delle previsioni, è proprio quella di vedere quanto i modelli vanno a convergere, fino a quando i modelli sono divergenti. Se voi guardate le previsioni per la prossima settimana e un modello vi dice che arriva il grande freddo a meno 20 gradi e l'altro vi dà una situazione normale, chi vuole fare lo scoop pubblica, arriva il Burian, arriva il freddo russo, chi ha i piedi un po' più per terra dice due modelli divergenti, calma e sangue freddo, aspettiamo che vadano in convergenza e poi vediamo cosa succede. In questo caso i due modelli anche a sei ore di distanza non vanno in convergenza, quindi come diceva Walter, se io sono in croceva con la famiglia, sto facendo un trasformimento, nel dubbio cosa faccio, vado su una rotta dritta e tutt'al più farò qualche ora di motore, ma non vado a fare magari una lunga deviazione rischiando poi di non incontrare quello che mi aspetto, perché stiamo parlando di differenze veramente molto di fino. Non so Walter, se abbiamo ancora qualche minuto, se volete far vedere un altro sistema di calcolo che è Weather4D che gira su iOS, e tra l'altro è un sistema autonomo, magari fare anche soltanto un solo modello, ma far vedere proprio cosa succede sullo schermo e poi magari facciamo il confronto tra le varie app disponibili. Ma guarda, avevo pensato di fare, lo faccio subito, però la cosa che ho pensato mentre stavi parlando, ed è una piccola variabile, è questa. Quegli screenshot che noi abbiamo fatto vedere sono stati fatti sull'elaborazione, sui dati del giorno prima. Quindi altro elemento importante quando si parlava dell'obsolescenza dei dati è questo, il fatto di quanto un dato possa essere, come dire, aggiornato. Questo che ora vedete è la Roma HD utilizzando Weather4D che è un altro applicativo che gira su iOS ed è quello con una maglia molto 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 larga e queste sono le previsioni prese la notte prima del 12, vale a dire noi avevamo pensato di partire il 12 alle 5, d'accordo? E invece avevamo le previsioni, magari ci alziamo alle 5 la mattina e non riguardiamo le ultime previsioni, pensando che magari non fossero cambiate. Ecco, invece se io provo a fare il routage sempre dalla spezia a macinaggio, sempre con la Roma HD, vi ricordate la curva che abbiamo visto prima che ci portava verso Gorgona della rotta, eccetera, e io faccio una simulazione con l'ultimo dato che ho scaricato, prima della partenza, senza mettere nessun tipo di limite. Qui vediamo le isocrone, sono messe a mezz'ora e vediamo che la rotta è dritta. Quindi ha tenuto conto della nuova situazione meteo, che ora io vi faccio anche scorrere lentamente e si vede chiaramente che l'est prende il sopravvento, la saccatura è spostata più a sud, verso nord-ovest della Corsica e noi arriviamo col vento praticamente attraverso un macinaggio. Che ti sembra, Roberto? Ottimo, ma visto che hai fatto vedere anche questa qui, magari se mostri quella tua bella slide di confronto tra le varie app, anche perché magari chi è venuto a navigare con noi ha visto i programmi, i top, quindi ha visto Adrena, però da Adrena a Squid in mezzo c'è un mondo di applicazioni diverse, come pensai, quindi magari diamo un po' un'idea di quello che le persone possono pensare di comprare. Parto da Adrena o parto solo dalle app? Ma avevi la slide che faceva, vedevo un po' tutto, no? Se non sbaglio. Sì, sì, sì. Ok. Aspetta un attimo, riprendo la condivisione sull'altro applicativo. Ecco qua. Allora, in pratica, gli applicativi professionali principali, il più famoso, quello che quando guardiamo, abbiamo visto il Vende Globe, il nostro Giancarlo, lui aveva Adrena sul suo PC. E si va dai pacchetti più semplici che fanno, onestamente mi sia permesso di dirlo, poco di più di quello che viene fatto dagli applicativi che si trovano anche per i tablet, insomma da 649 euro per arrivare al Pro con 2.549 euro. Se vuoi poi, Roberto... Sì, magari faccio un commento, visto che il programma lo conosco bene. Esatto, te lo conosci molto bene. È quello che noi abbiamo installato su Fiera Mosca. Allora, quali sono le potenzialità di Adrena? Adrena permette di innanzitutto raccogliere in diretta tutti i dati di navigazione della barca, quindi condizioni vento, velocità della barca, eccetera, e di conseguenza ci permette di rielaborare e di ricalcolare basandosi su dati effettivamente registrati in navigazione le polari della barca. E quindi possiamo lavorare sulle polari in modo molto raffinato, possiamo escludere magari dei dati che riteniamo poco affidabili o che riteniamo, diciamo, fortuiti. Possiamo sviluppare polari per vele specifiche, quindi ci aiuta poi anche proprio a selezionare le combinazioni di vele che servono, e quindi questo è un primo punto di forza di questo programma. Poi permette di effettuare i calcoli di routage in modo completamente autonomo, quindi una volta scaricati i file lib, non ha bisogno di altro perché utilizza la potenza del PC per effettuare il calcolo, e ha un'interfaccia non facile, quindi contrariamente alle app di cui abbiamo parlato fino adesso, l'interfaccia è sicuramente non molto user friendly, ma appunto permette di lavorare molto sul fino, quindi soprattutto per barche da regata e molto competitive, permette di sviluppare anche delle strategie di navigazione sofisticate. Ovviamente non è un programma che io consiglierei a un normale di portisti mediterraneo. È più votata alla regata, assoluto. Alla regata o comunque a navigazioni molto impegnative in cui magari anche appunto avere le polari dell'imbarcazione molto precise, anche in funzione delle combinazioni di vele che vengono utilizzate, può diventare fondamentale per un'intera strategica. Ma sicuramente oggi il mercato offre molte altre alternative, magari Walter lascia a te la parola sul... Sì, ecco, parlando di questo, solamente per completenza, perché diventa fondamentale, cioè chi vuole veramente un confronto fra le proprie prestazioni e questi programmi, se non ha una conoscenza personale di come settare i propri strumenti e non ha strumenti che siano correttamente regolati, la stazione del vento sostanzialmente, il log, eccetera, tutti i dati intanto che vengono raccolti per calcolare le polari sono falsati da questa informazione non corretta. E quindi, cioè, molti di noi sicuramente, no, in navigazione con la propria barchetta da di porto, il barchetto non è riduttivo, insomma, facciamo un bordo di bolina, poi andiamo sull'altro lato e la stazione del vento ci dà una direzione del vento che è di 20 gradi diverso. Ecco, noi in quel momento lì, se non abbiamo punti di riferimento, a parte la nostra bussola e la nostra esperienza, abbiamo un'informazione anche sbagliata rispetto a quella che è l'evoluzione del vento per capire meglio quello che ci sta accadendo intorno, quello che dicevamo sull'evoluzione della navigazione. Quindi avere gli strumenti in buone condizioni e ben settati è fondamentale per tutte le nostre analisi, indipendentemente dall'uso dei sistemi di routage. Poi ora vado avanti, insomma, Expedition è un altro applicativo quasi all'altezza di Adrena, fa molte cose ed è estremamente interessante. Ha un prezzo leggermente più basso, ma è a livello del massimo di Adrena. Poi c'è Max Sea, poi io vado veloce in questo momento, Sea Pro Performance Sailing è un modello inglese, Deckman di B&G che purtroppo non viene più sviluppato da B&G e quindi era integrato con i suoi strumenti, ma per adesso ho sentito anche il rivenditore non lo stanno più sviluppando. E poi per chi è più smanettone ci sono questi software che sono gratuiti dove bisogna impegnarsi un po' per cercare di utilizzarli al meglio perché le carte devono essere cercate appunto su OpenCNP, eccetera. Tra l'altro, una curiosità, QTWLM deriva il proprio nome da degli sviluppatori che si divertivano a seguire le regate virtuali. Chi ha seguito il Vendeglobe in questi giorni ha visto, c'è virtual regata dove vengono fatte le regate virtuali sia in short che off short e questi erano sviluppatori perché WLM sta virtual loop de mer. Questo era un po' la curiosità che vi volevo dire. Poi ci sono programmi di navigazione sia su Mac che sulle applicazioni vi faccio vedere questa tabella tanto per arrivare. Questi sono i principali applicativi che si possono utilizzare per fare sia navigazione che routage. PredictWind è molto molto usato negli Stati Uniti o comunque nel mondo anglosassone. Utilizza i modelli generali che abbiamo visto ma anche ha due modelli proprietari di elaborazione che però sono più tarati sulle previsioni del nord americani. Ci sono varie gira sia su PC, Mac sia su Windows e Mac iOS e Android e ha dei prezzi che sono diversi a seconda delle funzioni. La versione free chi se lo vuole scaricare può andare a scaricarsela e è possibile vedere i modelli i modelli meteo mentre per poter fare il routage ci sono a seconda dei modelli meteo che vogliamo scaricare per poterlo fare ha un costo diverso. Avalon Offshore è solo su tablet iOS e Android e i costi sono quelli che si vedono lì. Avalon Offshore come Squid come Sail Grib ora ve lo dicevo si possono acquistare le carte ma chi per esempio ha su tablet un abbonamento Navionics con la registrazione dell'abbonamento alla cartografia Navionics può interfacciarlo e quindi sull'applicativo si può vedere la cartografia Navionics come base. Poi c'è Weather 4D Routing Navigation è quello onestamente che a me piace piace di più io lo uso insieme a Squid onestamente che costa nel modulo Routing Navigation è il modulo più completo perché ha anche l'integrazione appunto con gli strumenti ce l'ha anche Avalon e ce l'ha anche Sail Grib se si ha un trasmettitore wifi ci si può collegare con i dati della barca e quindi avere sia una una visione strumentale dei dati della barca ma anche poter fare appunto il confronto diretto fra quello che è il modello meteo e quella che è la situazione reale che la barca sta 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 registrando questo che è il più completo costa 54 euro e 99 e il meteo per un anno costa 37 e 99 se poi uno vuole le carte dell'istituto di geografia della marina quelle di navimap costano aggiornate 49 euro e 99 l'anno squid è quello che abbiamo visto lavora su windows ios android e c'ha varie possibili non ha la cartografia c'è una cartografia di quelle online tradizionali per i modelli meteo che abbiamo visto e fare routage però tramite serve quella l'alta risoluzione europa costa 37 e 99 per esempio racing mediterranei costa invece 217 per esempio ci sono i modelli grip del del dell'amma se il grip è solo per android è molto simile a weather 4d quello che lavora per ios costa 89 euro e 99 una tantum e le mappe appunto sono gratis oppure ci sono quelle da scaricare prese da l'ammiragliata inglese mi sembra e altrimenti uno se ha l'abbonamento a navionics le può interfacciare con navionics di tutti questi c'è da dire che per quanto ne so io non mi ricordo di se il grip ma weather 4d è l'unico forse se il grip ma non sono sicuro scusatemi per questa imprecisione ma weather 4d è l'unico che può fare il routage offline con le informazioni meteo di cui di cui dispone se vuoi ve li posso far vedere graficamente Roberto che cosa scusa se vuoi li posso far vedere graficamente una schermata per ciascuno sì quello che aggiungo è che appunto vale la pena approfondire poi le capacità di ciascuno in base anche alle esigenze magari io ho già il mio cartografico è inutile che spenda soldi a comprare anche la cartografia sul certo parliamo anche di questo eventualmente sicuramente il fatto di avere delle app che possono essere autonome nel calcolo che è quello che poi fanno i software più sofisticati è molto importante molto utile quindi Weather4D che anch'io ho scoperto recentemente ha delle capacità di calcolo importanti proprio perché mi permette anche senza una connessione internet di elaborare il routage autonomamente mentre sono in navigazione se posso ho una cosa importante da dire anche su questi applicativi si si parlava prima della comunicazione in della comunicazione tramite internet no e chiaramente se uno non c'ha internet può avere dei problemi allora qualcuno la volta scorsa mi sembra proprio mi pare Patrizio Rosi che conosco anch'io e saluto ci scrisse che l'unico modo è il satellitare ecco io credo che sia si debba fare attenzione un pochino perché a seconda dello strumento che si usa per scaricare i dati i dati meteo ci possono essere costi anche importanti cioè una cartografia con tutte le informazioni richiesta tramite satellitare da un applicativo se non lo sappiamo gestire per esempio semplicemente GFS scaricato con tutti i dati che ci possono interessare non solo il vento ma anche la pressione barometrica la raffica le precipitazioni la nuvolosità eccetera per un'area che va da Genova alla Sardegna può pesare fino a 2 mega e 4 se utilizziamo l'iridium che ha una velocità di 2,4 k byte al secondo ci vogliono 16 minuti e dai 25 ai 30 euro a seconda dell'abbonamento con Turaia ci vuole un po' meno ma si spende 11 euro ecco alcuni di questi applicativi Squid Sale Grib anche Weather 4D hanno al loro interno la possibilità di selezionare il dato il dato molto limitato del GFS e addirittura si arriva a richiedere un'informazione di 228 k byte e questo riduce tantissimo il tempo di scarico e eventualmente il costo quindi sono applicativi che tutto sommato sono estremamente funzionali anche per un uso per un uso di questo tipo mi sembrava importante dirlo anche se chi ha il satellitare l'ha usato per fare queste cose sa quanto sia estenuante riuscire a scaricare anche piccole informazioni è meglio come diceva Meggiorin domenica scorsa avere un amico a casa e telefonargli se si ha il satellitare si spende meno e si ha informazioni più precise ok intanto leggo un paio di commenti che sono arrivati su Facebook uno di di Antonio che dice tutto molto interessante ma perché non un bel barometro analogico penso che qua io Walter Paolo siamo assolutamente allineati sì la risposta è sì come abbiamo detto la settimana scorsa con Gianfranco Meggiorini secondo me la sintesi è che noi dobbiamo essere in grado di sfruttare tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per poter navigare nel massimo della sicurezza e nel massimo e allargare al massimo la nostra zona di comfort questo significa se la tecnologia ci fornisce delle indicazioni aggiuntive la utilizziamo ma sicuramente come abbiamo visto anche stasera è importante alzare le antenne e guardarsi intorno che significa guardare il barometro guardare lo stato del mare guardare le nuvole quindi guardare quello che c'è in questo momento preciso perché ci sono dei fenomeni che non posso intercettare se non utilizzando i miei occhi poi i miei occhi possono anche essere occhi tecnologici perché posso dire io non sono utilizzo internet per vedere quello che sta vedendo la nave a 30.000 di distanza ma l'osservazione dei dati puntuali quindi anche i dati radar per esempio dei radar meteorologici per vedere la situazione dei temporali e dei fronti di instabilità come abbiamo visto la settimana scorsa quello è uno strumento di importanza straordinaria nessun modello riuscirà a prevedermi come si sposta un fronte temporalesco che si sta che sta seguendo un fronte freddo sul Gorto di Genova ho bisogno di degli occhi che vedano in tempo reale quello che sta succedendo non so Paolo visto che tu ovviamente di esperienze ne hai veramente tantissima il commento sull'utilizzo del barometro degli strumenti di bordo coniugati con la tecnologia non so se vuoi aggiungere qualcosa a tu grazie Roberto sì sicuramente sono strumenti di fronte a queste cose qua sono strumenti un po' primitivi però non dimentichiamo di averli perché sono cose che vanno sempre sempre consultate tutto aiuta per cui Antonio giustamente ha fatto un'osservazione giusta non dobbiamo dimenticare di ricordarci di consultare anche quello posso dire una cosa Roberto così perché eh prego beh io credo che sia importante io ho un amico guarda lo metto in condivisione perché eh che fa le le regate e che eh aspetto un attimo eccolo qua che fa le regate e che ha in barca se ne parlava domenica scorsa un bel barografo ha un bel barografo perché questo gli consente di vedere anche piccole variazioni della pressione barometrica e questo gli fa capire se la l'alta pressione o la bassa pressione a seconda quello che sta andando incontro si sta avvicinando e si sta o si sta allontanando e quindi lui è in grado di poter fare delle valutazioni se è in regata anche su quando fare eventualmente la virata o la strambata per stare fuori dalla zona di poco vento o evitare il groppo eccetera io ciò qui lo vorrei vedere l'appunto preso domenica domenica scorsa e il commento che vorrei fare è che l'applicazione migliore il software migliore di routage è il ehm è lo skipper il navigatore che col barometro l'osservazione del mare del vento della carte della sua capacità di analisi riesce a analizzare quello che sta accadendo tutto il resto sono aiuti cioè se usciamo dall'aspetto performance esasperato tutto il resto devono essere ausili da prendere con 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 le molle perfetto se io guarda aggiungerei scusami è un'altra cosa e aggiungerei come informazione meteo che a volte si sottovaluta da guardare è il se c'è internet è l'osservazione del radar e delle fulminazioni per capire come si stanno muovendo eventualmente i fronti rispetto a quello che è la previsione che avevamo perché le previsioni non seguono i modelli hanno un orario possono essere in anticipo o in ritardo e e questo è determinante per quella è la nostra navigazione perfetto guarda se mi rilasci lo schermo faccio vedere una slide di sintesi visto che anzi vi ringrazio tutti per la della pazienza e dell'attenzione perché stasera siamo andati un po' più lunghi però in effetti l'argomento era era sicuramente complesso io come come sintesi delle cose che sono state che abbiamo detto stasera potrei scrivere potrei condividere con voi questo cioè la conoscenza della meteorologia marina è fondamentale per definire la nostra comfort zone quindi la possibilità di navigare in sicurezza o anche proprio in tranquillità dipende chiaramente dalla nostra conoscenza della barca dell'equipaggio della nostra esperienza e interfacciare queste conoscenze con quello che sarà il tempo che farà perché in base a queste variabili io deciderò di fare una cosa o di non farla di partire o di non partire ci sono condizioni meteo che con una barca da regata e un equipaggio che conosco posso affrontare e magari se navigo con la mia famiglia come magari quel venerdì io magari quel venerdì con quelle condizioni incerte quel mare incrociato quell'onda lunga magari me ne stavo un giorno in più a Fezzano prima di partire la meteo la conoscenza dell'evoluzione meteo mi permette di definire anche i piani alternativi mai partire con soltanto il piano A piano B piano C proprio per avere alternative sapendo che soprattutto in Mediterraneo lo continuiamo a ripetere le condizioni meteo sono bizzarre cambiano rapidamente possono essere imprevedibili e possono facilmente evolversi in qualcosa di pericoloso e poi per ribadire quello che diceva adesso Walter il navigatore il vero navigatore è la persona che sa fare una sintesi delle tante informazioni disponibili quindi non disdeniamo la tecnologia ma dobbiamo saper tenere gli occhi aperti ma saper leggere un barometro e saperci mettere la nostra esperienza e saper usare la prudenza e il buon senso per guardare anche in faccia il nostro equipaggio e capire quella che è la navigazione più opportuna da intraprendere con le persone che abbiamo a bordo in quel momento chiaramente è un argomento di una complessità devo dire anche di un fascino come tutte le cose complesse di un fascino straordinario ma che richiede voglia di essere approfondito di essere studiato e anche di fare pratica quindi non basta chiaramente smanettare sul tablet ma poi bisogna navigare e via via confrontare i dati reali con quello che troviamo quindi tutto questo sono degli spunti veramente per tante cose che si possono fare in futuro che anche Paolo sta già facendo con Walter però argomenti secondo me veramente ricchi di fascino non so se Walter o Gianni o Par se qualcuno vuole aggiungere qualcosa io direi che proprio mentre dicevi queste cose qua mi viene in mente sarebbe bello organizzare a breve un qualcosa un corso di routage a bordo dal vivo con Walter e magari anche insieme molto volentieri aspettiamo di poter tornare tutti in barca visto che per il momento purtroppo la maggior parte delle persone che ci stanno seguendo non possono raggiungere la Liguria ma siamo tutti in attesa di una situazione più serena che ci permetta di tornare le nostre attività didattiche a bordo sarebbe molto bello poter anche fare proprio Roberto un lavoro anche di confronto fra i software professionali e gli applicativi vedere quelli che sono perché io credo che a livello di routage ormai l'elaborazione di calcolo consenta di fare cose egregie è tutta un'altra serie di è un po' come un un elaboratore di testi tutti sono elaboratori di testi però magari ci sono quelli che hanno tante altre fissure che garantiscono un livello maggiore però ben volentieri spero spero sia interessata sì io pensavo invece in aggiunta che probabilmente tutti gli specialisti oppure quelli che lo fanno perlomeno come attività semi-perfessionale già conoscano parecchi di questi software e anche le differenze fra uno e l'altro probabilmente per il deportista che magari si avvicina per la prima volta e potrebbero essere numericamente anche un numero appunto elevato sarebbe interessante magari partire proprio da scegliere il sistema più semplice e approfondirlo sia come si scarica il software come si leggono le carte come si aggiungono e così via magari concentrandosi su un software solo in modo almeno che il deportista possa ottenere un risultato pratico e tangibile in tempi brevi bene d'accordo allora grazie a tutti grazie a Valtteri innanzitutto grazie a Gianni a Paolo grazie a tutti quelli che ci hanno seguito come sempre con passione con delle domande veramente molto interessanti a brevissimo vi farò sapere quali sono i prossimi appuntamenti ci stiamo lavorando abbiamo tante idee quindi abbiamo bisogno di mettere un po' in ordine il materiale le proposte che abbiamo ricevuto ma a giorni vi faremo sapere quale sarà il programma futuro quindi grazie e buona serata a tutti buona serata grazie buona serata ciao 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 ciao